Sì, perché merda che siamo noi? Noi siamo in verda. Gli elettristi chiedono i loro diritti. Basta sbarchi, vai buonanotte, perché ormai sono pieni. Basta. Io sono un augustanista una vita. 56 anni. Ormai è impossibile andare a sopportare quello che c'è. Disoccupazione, abbiamo 8000 disoccupati. E chi è che si interessa di augustano? Nessuno. Chi è che venisse di spitalizzare. Stiamo facendo spettacolo, stiamo facendo scusate. Basta una cosa seria. Disoccupato da sei anni. Stai lì, però non troppo avanti. Piano, piano, dai, con calma.